musica 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 e fatta la foto faccio un saluto ragazzi abbiamo già regalato la macchina su una rosa segno di aspetto stiamo venendo in back chi è l'altro che viene lì? erano i ragazzi ragazzi dal centro via lato scusate non si sa mai tutto bene ragazzi tutto bene ci vediamo dopo ci vediamo dopo alla fine del campo di maggio c'è la salita per spezzare quelle telecamere c'è il città on io mi nascondo cambio volta e cambio calma devo anche mettere davanti nella tua volta eh non si no 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 si no che squadrona 610 marmita arrovo per tracono stage doppia stella ah ah quella è la moto del calcolatore questa è la marca di moto,yoko poco ma ioko guarda graffi che va graffi proprio buon tempo ecco qua la robo plus attaccata con ferro filato nooo quella è la nuova racchetto guarda canzela guarda l'attacco della città ah c'è il motore rovesciato rovesciato ma che strono guarda ah c'è pure la città spegnimentale troppo è la fir oh mio si ho pronti all'altra finavano c'è solamente una cosa in serio aspettate un altro è arrivato un altro guarda qua chiudi eccolo lì dietro guarda guarda certo allora guarda su l'orezzo dai Vai! che mi conviene c'est bon No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no terra? vai 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 arrivo arrivo Ah! Sì, sì, sì. compagno è morto morto riprova sarei più fortunato l'ho preso l'ho preso in pieno l'ho ripreso in pieno ragazzi dai dai a terra a terra a terra così vai 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 a terra vai 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 apri tutto taglia 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 legna vai così no 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 deve morire vai esci dal canale vai da là è stanco fate un po di silenzio che è stanco ragazzi ok va bene così in a in a in a Ah! Vieno! Capelino! Avvince i capelino! No! Yeah! John Christopher! From the end, Tomás! It's about two vamứtopia! Andrew, it's up here! A new date! I've found the tvs! True, true, true! Here goes my dreams! Damn, you got an old revert! E' il cuore! Presidente, fate vedere, fate vedere! Prego, chi so' papo ci domani? Ci vedo! No, 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 no! 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 No, no, no! Helma! 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 Amore, gioia! La parte di Maria e Paola! Applausi, applausi! Applausi, applausi, applausi! Grazie comunque! Allora, la premissione, c'è una premissione a qualche qui, per la donna che ha fatto tutto il percorso art, del punto, a partire di qua fino a su... sulle colvine. Un applauso a Massimo! Applausi, 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 applausi! Stasera ho fatto un cornetto! Comunque grazie a tutti quelli che hanno collaborato per questo cavalcato! Speriamo che il prossimo anno ci prenderemo di più! Un applauso a tutti! Grazie, grazie! E' una cosa a Vincenzo! Grazie! Lucia! Lucia, vieni qua Lucia! Allora, questa qua va per il signor Luciano Lucia, come siete qui? Per la credito di me che ci hai offerto oggi! Un applauso! Bravo! Oh! È la fine di tutto il giro! È da buona idea! Allora! 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 Allora!